E' di 132 morti e circa 6.000 contagiati l'ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese. Rallentano però i malati giornalieri anche se il numero totale ha già superato quelli per la SARS del 2002. Un'epidemia che il presidente cinese Xi Jinping ha definito un demone. Oggi vertice alla Farnesina sulle linee guida per far rientrare gli italiani da One. Due stati con Gerusalemme capitale in divisa di Israele e Gerusalemme est della Palestina. E questa è la proposta di Donald Trump per arrivare alla pace in Medio Oriente. Presentata con accanto il premier israeliano Netanyahu. Una proposta che però non è stata accettata dai palestinesi. Gerusalemme non è in vendita. I nostri diritti non si barattano. E' stato il duro commento di Abu Mazen. E' tregua nella maggioranza sul tema della prescrizione. Italia Viva che minacciava di votare contro il ministro Bonafede se avesse difeso la sua riforma. Ha deciso di non partecipare al voto e la proposta di legge è tornata in commissione. Ad agitare l'azione del governo c'è però anche il caos all'interno del Movimento 5 Stelle. E' previsto per questa mattina a Taranto l'arrivo della nave Ocean Viking con a bordo 403 persone salvate negli ultimi giorni in diverse operazioni nel Mediterraneo. Matteo Salvini intanto va all'attacco del governo e minaccia di denunciare il premier Conte e la ministra Lamorgese per aver trattenuto per quattro giorni a bordo i migranti senza dar loro un porto sicuro. 7.30. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del Telegiornale che apriamo con gli ultimissimi numeri che arrivano dalla Cina dai bollettini ufficiali sulla infezione da coronavirus. I morti infatti sono diventati 132 e gli infettati sono ormai più di 6.000. Ma la novità è che i paesi occidentali stanno cominciando a organizzarsi per far rientrare i propri cittadini che si trovano in Cina. 13 città in isolamento intorno a Wuhan dove è stato scoperto il primo caso circondate da un cordone sanitario che non ha uguali nella storia del paese. 50 milioni di persone che non possono lasciare la regione e dove dopo le quattro del pomeriggio le autorità hanno disposto il coprifuoco. Scuole e università chiuse fino a nuovo ordine, quasi 6.000 casi di contagio finora accertati, un numero che ha superato in Cina quello della SARS, la sindrome respiratoria acuta grave fermatosi a circa 5.300. I decessi accertati sono diventati 132, quelli della SARS nel 2003 furono 349. Sono i numeri del coronavirus, un'epidemia che il presidente cinese Xi Jinping ha definito un demone. A peggiorare ulteriormente le cose la sintomatologia del contagio, che sembra non manifestarsi prima di due settimane quando la persona affetta non sa ancora di essere malata e forse potrebbe essere troppo tardi per una cura. In questi giorni nei laboratori di tutto il mondo si sta lavorando giorno e notte per mettere a punto un vaccino efficace. La Cina è riuscita a sequenziare il genoma del virus e a rendere pubblici i risultati, consentendo agli scienziati di sviluppare nuovi strumenti diagnostici. Speranze arrivano dall'Australia. Il Doherty Institute di Melbourne ha annunciato di essere riuscito a creare, per la prima volta fuori dalla Cina, un nuovo coronavirus dal campione ottenuto da un paziente infetto. In Europa i casi accertati sarebbero sette. Il primo caso tedesco, un uomo contagiato da una collega arrivata dalla Cina, che però non presentava i sintomi. Poi altri tre suoi colleghi si sono ammalati. Tre casi in Francia, mentre in Italia si sta monitorando il caso di contagio di un uomo ricoverato a Napoli perché presentava i sintomi del virus. Per questa mattina la Farnesina è stato convocato un vertice sulle linee guida per il rientro degli italiani che ancora si trovano a Wuhan. L'altra grande notizia internazionale del giorno è il piano di pace per il Medio Oriente, proposto con grande enfasi dal presidente americano Donald Trump. c'è stato subito il sì di Israele, ma è arrivato un secco no da parte dei palestinesi. Un grande passo verso la pace, l'ultima possibilità per la pace. Con queste parole e con il premier israeliano Netanyahu al suo fianco, Donald Trump, ieri nella sala conferenze della Casa Bianca, ha presentato il suo piano per il Medio Oriente accettato, entusiasticamente oltre che dallo stesso Netanyahu, anche dal suo rivale alle prossime elezioni, Benny Gantz. Un piano che prevede Gerusalemme, capitale indivisa dello Stato di Israele, ma con parti di Gerusalemme esta a costituire la capitale di un futuro Stato palestinese nella quale istituire un'altra ambasciata statunitense. 50 miliardi di dollari saranno stanziati in favore dei palestinesi. Gli insediamenti israeliani poi saranno congelati per quattro anni. Gli stessi che, ha scritto Trump a Mahmoud Abbas, verranno dati all'ANP per negoziare con Israele. Netanyahu si è detto pronto a farlo alle condizioni del piano che ha già affermato di voler applicare fin da subito, tanto che domenica chiederà al suo governo di votare sull'estensione della legge israeliana alla Valle del Giordano e alle colonie ebraiche in Cisgiordania. Il progetto di Trump infatti prevede la sovranità israeliana su quei luoghi oltre ad una Palestina demilitarizzata. Condizioni bollate da Hamas, il movimento islamista che controlla la striscia di Gaza come insensate. Lo stesso Abbas ha rifiutato nettamente un piano bocciato sia dalla Turchia che lo ha definito nato-morto sia dalla Giordania che, come le Nazioni Unite, richiama al rispetto dei confini definiti prima della guerra dei sei giorni del 1967. E se l'Unione Europea ribadisce il suo impegno per una soluzione a due stati, la Russia invita le parti a intavolare negoziati diretti per trovare un compromesso accettabile. La cosa più importante, però, ha affermato il vice ministro degli esteri russo, è che palestinesi e arabi possano esprimere la propria opinione. Veniamo in Italia. Questa mattina a Taranto sta a Proderà la nave Ocean Viking a bordo a 403 migranti raccolti nel Mediterraneo in diverse operazioni di salvataggio. Uno sbarco che è motivo di polemica perché Salvini va all'attacco del presidente del Consiglio Conte e della ministra dell'Interno, la Morgese, dicendo che il governo ci ha messo quattro giorni a trovare un porto sicuro per questi migranti e che lui intende denunciare il governo per sequestro di persone. Lo sbarco più consistente avverrà tra poco nel porto di Taranto con l'approdo della Ocean Viking, nave gestita da SOS Mediterranea con medici senza frontiere. A bordo ci sono oltre 400 persone raccolte in mare negli ultimi quattro giorni in diverse operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. In maggioranza provengono dall'Africa subsahariana. Tra loro 12 donne in stato di gravidanza, molti minorenni non accompagnati, 132 e 20 nuclei familiari. Il piano di accoglienza è stato messo a punto in prefettura tra forze dell'ordine personale medico e associazioni del volontariato per garantire una prima assistenza sanitaria in attesa di una redistribuzione. Si tratta dell'arrivo più consistente dalla ripresa delle traversate in una fase in cui la Guardia Costiera Libica sembra aver diradato gli interventi e dopo una polemica innescata con il Viminale e Palazzo Chigi dall'ex ministro Salvini per il tempo trascorso in attesa della scelta del porto sicuro con quest'ultima vicenda paragonata da Salvini al caso Gregoretti. Gli accordi europei funzionano, anche la Romania parteciperà ai processi di redistribuzione annuncia intanto il ministro Lamorgese. A Taranto i migranti saranno condotti nell'hotspot all'interno del porto per le procedure di identificazione. Entro tre giorni saranno avviati ad una nuova destinazione. Per i minori non accompagnati si profila invece il trasferimento nelle strutture di accoglienza predisposte a livello locale. Diverso è il destino della nave Alan Kurdi con 77 persone a bordo che ha dovuto far rotta verso Malta. Una decisione accolta con un certo disappunto dall'equipaggio appresa quando l'imbarcazione era già in prossimità delle coste italiane. L'Europa deve accordarsi su un meccanismo che non costringa ogni nave diversa a negoziare singolarmente, ha scritto in una nota la ONG CI. Oh e veniamo proprio alla politica. Dibattito in corso fra i partiti dopo il voto regionale. Scende la tensione nella maggioranza sul tema prescrizione. Vediamo perché. I renziani scelgono la linea della responsabilità e la maggioranza evita spaccature in aula sulla prescrizione. È successo ieri quando a Montecitorio ha prodato il testo del forzista Costa che incuneandosi tra le divergenze della maggioranza chiedeva di azzerare lo stop alla prescrizione entrato in vigore il primo gennaio con la riforma targata a Bonafede. Testo che fino a qualche giorno fa prima del voto in Emilia i renziani promettevano di votare insieme alle opposizioni in polemica con la linea giustizialista dei Cinque Stelle. Ma sarà la disponibilità mostrata oggi in aula dal ministro Bonafede? Ci sono divergenze ammesso ma nella maggioranza c'è lealtà. Saranno le trattative ormai avviatissime per trovare una soluzione che tenga conto anche dei desiderata di alleati a cominciare dal PD che sembrano aver mutato il loro peso specifico qualcosa è cambiato. La maggioranza si accorda per rispedire il testo in commissione votano sì i PD Cinque Stelle e l'EU Italia Viva che prima si era detta contraria si astiene. Ha mostrato il suo volto responsabile dicono gli spinrenziani a noi non interessa mettere bandierine chiarisce dopo Lucia Nibali ma è il risultato finale eppure si tratta di una fiducia a tempo senza un'intesa nella maggioranza le grane tolte oggi dal tavolo dell'aula torneranno sotto altra forma un emendamento della stessa Nibali al mille proroghe che sospenderebbe gli effetti della riforma Bonafede sul quale non è difficile immaginare una possibile convergenza delle opposizioni desiderose di accendere una miccia tra gli alleati di governo e se il PD si dice fiducioso di un'intesa della maggioranza sulla riforma del processo penale e quindi sui tempi dei processi le opposizioni fiutano l'occasione sfumata ieri e attaccano il rinvio di ieri è motivato solo dalla paura che i 5 Stelle facciano cadere il governo allora a proposito di governo c'è la grande incognita di che cosa faranno i 5 Stelle che si trovano in grande difficoltà dopo i risultati elettorali di Emilia Romagna e Calabria che non sono stati sicuramente favorevoli ecco le prime mosse l'annuncio del via sulla piattaforma russo alle candidature per consiglieri regionali e a governatori nelle regioni dove non è stato ancora espresso un voto degli iscritti la scelta di Alfonso Bonafede come nuovo capo delegazione governativo del Movimento 5 Stelle sono queste le prime mosse uscite dall'Assemblea dei Parlamentari ieri sera sono i primi passi di un movimento in cui il vuoto di potere lasciato dalle dimissioni di Di Maio può trasformarsi in un cantiere di idee ma allo stesso tempo in un calderone di revanchismi personali le anime sono tre diceva ieri un veterano come Max Bugani chi soffre la distanza da Salvini chi vorrebbe fare un terzo polo e chi vuole andare a sinistra lui la buttava sull'apocalittico dobbiamo capire se restare insieme ma di veramente apocalittico per l'ex movimento del Vaffa sembra esserci solo il perdurare di una condizione di terzietà messa in crisi dall'1-2 governativo prima con la Lega poi col PD una terzietà debole logico che il voto in Emilia Romagna abbia radicalizzato lo scontro dando sì conforto a quanti spingono perché l'alleanza col PD diventi strutturale ma mettendo anche fretta a chi resta convinto che l'unica identità possibile da rafforzare sia quella a parte logico anche che fioriscano trame e retroscena favoriti dal silenzio sia del capo politico che fu Di Maio sia di quello che potrebbe diventarlo ovvero di Battista tutto mentre dal PD dal governo e anche da fuori i soliti d'Alema e Prodi tanto per fare due nomi arrivano speranze per quello che il premier Conte ha definito fronte progressista un fronte che nelle intenzioni dell'inclusivo Zingaretti non può trascurare le sardine il primo movimento spontaneo filo governativo come ha sottolineato ieri sera il segretario PD mentre Franceschini sembra più interessato a far cantare le sirene dell'arco costituzionale in un movimento chiamato a darsi una linea politica il più presto possibile lui è serbo ma per tutti era Igor il russo un paio d'anni fa aveva terrorizzato con i suoi omicidi l'Emilia poi era fuggito in Spagna anche qui aveva ucciso da ieri e alla sbarra proprio in quel paese per il processo da dietro una gabbia di vetro blindata creata apposta per lui perché considerato molto pericoloso il killer serbo Norbert Ser guarda i fotografi e sorride Beffardo facendo con le dita il segno della vittoria Igor il russo ha partecipato ieri all'udienza del processo che si è svolto a Teruel in Aragona per due tentati omicidi compiuti a dicembre del 2017 due agricoltori di Albalete incontrati vicino a una cascina in cui si stava nascondendo pioveva a buio ho sparato in segno di avvertimento racconta quando il magistrato dell'accusa gli chiede se i due lo avessero aggredito risponde parlando in italiano non mi hanno toccato se no non sarebbero qui spietato ma è un segno di pentimento Ferrer il killer dalle tante identità è anche accusato di cinque omicidi due in Italia e tre in Spagna già condannato nel nostro paese all'ergassolo per aver ammazzato ad aprile del 2017 prima il barista di Budrio Davide Fabri poi la guardia ecologica Valerio Verri in quel momento cominciò la ricerca nelle campagne tra Modena e Ferrara del killer in fuga mesi di latitanza e nascondigli segreti fino all'arresto in Spagna a dicembre dello stesso anno dopo aver ucciso due agenti della guardia civile e un allevatore ed è detenuto a Saragozza per i tre omicidi compiuti in Spagna sarà processato in primavera mentre a maggio ci sarà l'appello nel nostro paese in questa vicenda la gente è stata molto influenzata dalla propaganda mediatica detto Ferrer alla fine dell'udienza se ne parla da anni il nuovo codice della strada da ieri doveva andare all'esame della commissione ma c'è ancora qualche problema e chissà forse ancora un rinvio non ci sono fondi per alcune misure e così la riforma del nuovo codice della strada rischia di finire in un nulla di fatto ieri è arrivata la scure della ragioneria di Stato su alcune norme così la commissione bilancio della Camera che non si è ancora pronunciata potrebbe dare parere negativo su altri articoli del provvedimento che a luglio aveva ottenuto il via libera nella commissione trasporti di Montecitorio l'esame per il momento slitta alla prossima settimana secondo il ministero dell'economia manca la copertura finanziaria per dotare gli scuolabus delle cinture di sicurezza per permettere a moto e scooter con cilindrate inferiore a 150 cm3 di circolare in autostrada e per eliminare il pagamento del bollo per le auto storiche bocciata anche la possibilità di far diventare veicoli d'epoca le macchine agricole con la possibilità di esenzione del bollo la misura porterebbe meno soldi nelle casse dello Stato sul test arrivata la scure della ragioneria di Stato anche sull'obbligo dei comuni di delimitare le zone scolastiche fissando un limite massimo di velocità non superiore a 30 km orari una zona traffico limitato e aree pedonali per il MEF non c'è la copertura finanziaria per adottare questa misura perplessità anche sull'esenzione del pagamento del pedaggio per i mezzi di soccorso delle organizzazioni del terzo settore vedremo cosa succederà la prossima settimana visto che tutte le forze parlamentari condividono la riforma l'ok invece è arrivato sull'inasprimento delle multe per chi utilizza in auto cellulare smartphone o tablet e per chi viola il divieto di sosta e per i ciclisti arriva l'ok alla circolazione a doppio senso nelle strade con limite fino a 30 km orari e su corsie preferenziali gli esperti forenzi hanno identificato negli Stati Uniti il corpo di Kobe Bryant fra quelli delle nove persone precipitate con un elicottero tre giorni fa e il paradosso che si è appreso che il grande cestista che si era ritirato aveva stretto con la moglie Vanessa un patto non avrebbero mai volato insieme sullo stesso elicottero essere sulla pagina di apertura del periodico più importante al mondo è un onore riservato a pochi soprattutto in occasione del numero di fine dicembre quando è dedicata alla personalità dell'anno dopo domani i lettori di Time vedranno la sagoma inconfondibile del numero 24 il centro dei Lakers circondato dal buio ma illuminato come merita una grande star è un altro dei tanti modi di ricordare Bryant che stanno caratterizzando i tristi giorni dopo la tragedia di Los Angeles quel numero 24 color oro e viola che spicca anche nella notte new yorkese lungo i fianchi dell'Empire State Building e il suo nome risuonerà ancora migliaia di volte durante la settimana che porta all'evento clou dello sport statunitense il Super Bowl di football sul fronte delle indagini i medici legali hanno comunicato ieri la conclusione dell'operazione di recupero delle salme delle nove vittime operazioni rese difficili dal terreno accidentato e scosceso da oggi verranno eseguiti gli esami autoptici indispensabili per chiarire la dinamica dell'incidente fra i particolari che emergono man mano sulla vicenda due hanno destato l'attenzione dei media il primo riguarda il patto stipulato fra Bryant e sua moglie Vanessa in nessun caso sarebbero saliti insieme sullo stesso elicottero allo scopo di non rendere ancora più grave il bilancio di un eventuale incidente a margine della vicenda si registra l'odissea di Felicia Sonmes una cronista del Washington Post che dopo l'incidente aveva diffuso in rete un articolo del 2003 relativa ad un'accusa di stupro a carico dell'ex giocatore il quotidiano ha preso ieri una decisione drastica sospendendo con effetto immediato la giornalista minacciata di morte via social e costretta ad un frettoloso trasloco in albergo e poi c'è lo sport il calcio ieri il Milan ha battuto 4 a 2 il Torino e va in semifinale di Coppa Italia affronterà la Juventus poi c'è da decidere questa sera l'altra semifinalista quella che affronterà il Napoli e uscirà dall'incontro fra Inter e Fiorentina mentre per il calciomercato ci sono novità anche molto importanti mentre a Milano l'Inter ha scelto la suggestiva coreografia del teatro alla scala per salutare l'arrivo del suo ultimo acquisto il fuoriclasse danese Christian Eriksen prelevato dal Tottenham la Roma dopo quelle di Francesco Totti e Daniele De Rossi sta per ammaienare un'altra bandiera nello stretto giro di tre mesi Alessandro Florenzi è passato dal ruolo di capitano a quello di oggetto ingombrante del quale disfarsi al più presto così il giocatore preso atto dell'amara realtà ha detto sia al Valencia pretendendo però una cessione a titolo definitivo che recida definitivamente ogni legame col passato i tifosi però sembrano gradire la linea verde scelta dalla società dopo l'arrivo del difensore brasiliano Ibanez prelevato dall'Atalanta hanno salutato ieri sera il 21enne centrocampista spagnolo Gonzalo Villar prelevato dall'Elce e oggi atterrerà nella capitale un'altra grande speranza del calcio iberico Carles Perez prodotto della cantera del Barcellona a quale biglietto da visita il gol realizzato all'Inter nella sfida di Champions League l'Under 21 spagnolo costerà alla Roma 15 milioni di euro con il club blaugrana che ha però preteso il diritto di ricompra ma non è finita poiché l'addio di Florenzi potrebbe essere compensato con l'arrivo di Sairius Christi difensore classe 92 attualmente al Furan in casa Juve fallito lo scambio De Sciglio si lavora con il Milan per quello tra Federico Bernardeschi e il brasiliano Paquetà in uscita anche Emre Can per il quale la trattativa col Borussia Dortmund è oramai addirittura ad arrivo molto attivo il Napoli che chiuso l'affare politano atteso oggi in città potrebbe definire il prestito con diritto di riscatto dal Milan per Riccardo Rodriguez in chiusura anche l'affare Petagna col centravanti che rimarrà però sino a giugno alla Spal per dare il suo contributo a una difficile salvezza allora fra poco Paolo Sottocorona con le previsioni meteorologiche subito dopo c'è Omnibus gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Stefano Candiani Andrea Cangini Gianni Cuperlo Alessandra Ghisleri Daniela Preziosi e Francesco Specchia alle 13.30 c'è la prossima edizione del telegiornale noi abbiamo appuntamento domani alle 7 con Omnibus News grazie e arrivederci grazie